Sono una decina le persone denunciate ad oggi dai carabinieri perché in giro senza motivo. Uno di loro incorrerà anche nella denuncia per falso, reato ancora più grave. Nell'autocertificazione aveva dichiarato di essere uscito per andare al lavoro, ma dai controlli successivi è emerso che non era vero. In tutto 500 le persone fermate in pochi giorni dai militari, sanzionato anche un ristoratore di malesco che era aperto dopo l'orario consentito prima che entrasse in vigore il nuovo decreto. Anche la polizia sta continuando quotidianamente i controlli con attenzione particolare per le località di montagna.